Torna il tradizionale appuntamento con il presepe vivente nello scenario del borgo antico, quest'anno a cura dell'amministrazione comunale. Oggi, a partire dalle ore 17, centinaia di figuranti in abiti d'epoca e scenografie appositamente create daranno vita alla manifestazione attesa ogni anno da migliaia di visitatori. Lungo il percorso che attraversa i vicoli più suggestivi del centro medievale, sarà possibile ammirare e conoscere gli antichi mestieri, scoprire i mercatini e le locande, degustare i prodotti tipici della tradizione natalizia locale. All'arrivo nel centro storico, dinanzi alla porta bizantina, ad accogliere i visitatori, saranno presenti i soldati vestiti a tema. Proseguendo sulla sinistra, davanti alla chiesa della Madonna di Costantinopoli, sarà inscenata l'annunciazione dell'angelo a Maria, rappresentazioni ore 18 e 30, 19 e 30, 20 e 30 e 21 e 30. Spazio ai mercatini tipici in piazza Umberto I, mentre le viuzze strette del borgo saranno allestite a tema con scorci di vita quotidiana. A Palazzo Scipione del Vecchio andrà in scena la natività, mentre in piazza Mainenti vi sarà la ricostruzione di una locanda tipica dell'epoca. Nella piazza Santissimi Pietro e Paolo scena dei pastori, personaggi storici, musica e giocolieri, rappresentazioni ore 19, 20 e 21 e 22. Nella piazzetta via Castello sarà predisposto un falò e saranno distribuite caldarroste. Location d'eccezione è il castello, dove nella sala dei francesi sarà rappresentata la corte di Erode. Inserata nella piazza d'armi, spettacolo di luci. L'evento si replicherà il 6 gennaio con l'arrivo dei Magi.